Sei un'attrice o un attore con esperienza teatrale o cinematografica? Oppure speri di diventarlo e desideri offrire una dimostrazione del tuo talento? Entra a far parte di Casting, il nuovo progetto di Kaminsun Television. Vai sul sito www.kaminsun.it slash casting, compila il form con i tuoi dati ed entra nel mondo del cinema.